lunedì 8 gennaio santa polinare vescovo è l'ottavo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 358 al termine il sole sorge le 7 50 tramonta le 16 e 45 la luna si leva le 5 tramonta le 13 e 29 sopra la scala del palazzo ducale vengono sistemate le due statue dei giganti magnifica opera di jacopo sansovino le previsioni per domani non si verificheranno a precipitazioni cielo poco o parzialmente nuvoloso temperature in calo